Dai, si, adesso mi sbaglio per me e poi l'ultimo lo fa con me Dai, 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 dai Prezzo, com'è essa? Dammi la palla? Oh, chi ha questo tipo? Questo tipo? Scusa, finita, eh? Dei chiamare tutto? Allora, dai, dai, basta, finito, è un altro finito Ha vinto ancora la basta Allora, ve lo ripeto, sabato 14 giugno, secondo il trofeo Falcoval, gara nazionale di calcio del gol A Sopolo, in via Gruppini, ci sarà io, Paolo Parmigiano e Militello Poi alle 24, la gara della nazionale con l'Uniter, Maxi Scherro, mi hanno detto da 30 metri guardati, non so troppo cos'è Ok, ringraziiamo la partita che secondo me è di un architettino Grazie 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 Grazie